Nel sesto episodio di Viacolite, Insegni e Corrompi, Vernestrarò deve andare ad indagare sull'omicidio dello straniero ai danni dei cavalieri Jedi, quindi deve compiere un viaggio nell'iperspazio, ma le viene fatto notare che a lei non piace viaggiare in quel modo, che lei sta male, perde i sensi. Perché? Cosa vuol dire? Lo scopriamo nell'Alta Repubblica, nei romanzi a lei dedicati. Infatti Vernestrarò ha un potere molto particolare, un legame con la forza quasi unico che si sviluppa principalmente nell'iperspazio. Oggi andremo a indagare grazie a Chiara questo misterioso quindi legame con la forza della maestra Vernestra. Ma come sempre sono Emilio Valotti e ti chiedo di lasciarmi un gran mi piace qui sotto per sconfiggere il malvagio algoritmo galattico, inoltre di scrivermi un bel commento. Qualunque, anche un cuoricino serve tantissimo per portare avanti la nostra alleanza ribelle nota anche come Vean Bounce, ma come sempre grazie a tutti per essere qui, grazie ai nuovi iscritti e lanciamo la sigla! Prima di cominciare ci tengo tantissimo a ringraziare Chiara che come vi ho detto mi sta facendo da navigatore nell'altra Repubblica. Perché io ho letto il primo romanzo La Luce dei Jedi, ho proseguito nei fumetti, poi mi sono un po' fermato, un po' perso, devo recuperarla. Quindi le ho scritto e le ho chiesto gentilmente di darmi due o tre dritte riguardo Vernestrarò, riguardo la sua visione profetica che si sviluppa per l'appunto nell'iperspazio. E lei mi ha inviato un lavoro eccezionale di taglia, cuci e traduci andando a cercare in ogni romanzo i riferimenti a Vernestrarò per l'appunto durante i viaggi nell'iperspazio. Quindi non solo adesso mentre andrò poi a spiegarvi cosa succede, perché succede e che cosa sperimenta la maestra, ma mentre lo farò andrò anche a leggervi alcuni paragrafi che Chiara ha letto, scritto e tradotto per non italiano. Quindi traduzione ragazzi unica, non è quella dei romanzi ma è quella della bravissima Chiara. Quindi lasciate un mi piace anche per lei qui sotto e un grande commento di supporto, perché mi sta aiutando tantissimo e infatti la rivedrete presto anche in dirette dedicate a Throne e all'altra Repubblica. Ma cominciamo parlando di Vernestrarò, che parla appunto questa abilità unica nella forza che si sviluppa quando è ancora una Padawan. Uno dei primi viaggi per spaziali che fa, lei come se si sentisse per un attimo mancare, perdere i sensi e ha queste intense visioni profetiche in cui viene quasi sbalzata via dal suo corpo, si trova in un luogo differente, quindi è una manifestazione proprio quasi fisica, una visione che molto secondo me ricorda quelle che fa Paul Atreides in Dune, cioè lei si sente veramente estragnata dal corpo e dello spazio vedendo attorno a sé profezie sul futuro che l'attende, specialmente di solito sulla missione che deve compiere. Inizialmente la giovane Vernestra non dà molto peso a queste visioni, tant'è diventata Cavaliere Jedi, per un attimo cestano totalmente, per poi tornare in maniera più frequente crescendo. E in quel momento ha una visione particolare di un attacco Niel, una visione che poi si concretizza. E da quel momento comprende che non sono soltanto sogni, non è un leggero svenimento a causa per l'appunto del viaggio iper spaziale che le causa, diciamo il mal di mare, il mal di spazio, è qualcosa di più. Sono per l'appunto visioni profetiche. Infatti ricordiamo che nel canon i Jedi avevano il potere di vedere il futuro e scrivevano profezie. A un certo punto, come la profezia del prescelto, tale potere venne proibito, perché i Jedi che vedevano il futuro cercavano anche di plasmarlo e ciò portava al lato scuro, quindi era molto facile che chi vedeva il futuro piombava verso il lato scuro. Un po' come Pong Krell nella serie The Clone Wars, che ha visto il futuro, ha visto che i Jedi sarebbero caduti, quindi ha affiancato Duku e i separatisti, un po' come Anakin, che vedendo il futuro, quindi la morte di Padme, diventa Darth Vader e cade al lato scuro. Quindi la preveggenza, le visioni, le profezie, sono in qualche modo un potere che i Jedi avevano, ma come tanti altri hanno proibito, perché è considerato troppo pericoloso. Vernestra quindi a questo potere, quando è nell'iperspazio, prova delle potenti manifestazioni della forza, che spesso sono premonitrici del futuro, quindi le mostrano eventi che stanno per accadere, e in qualche modo sono sempre eventi allarmanti che la coinvolgono. Ma andiamo a leggere la prima traduzione di Chiara, presa dal romanzo Out of the Shadows, di Justina Highland. La nave sobbalzò, e poi l'azzurro dell'iperspazio sfrecciò oltre i finestrini della cabina di pilotaggio. Vernestra sbadigliò una volta, poi una seconda, e la cosa seguente che sapeva era che si trovava nel deserto, su un pianeta che non aveva mai visto prima. Camminava avanti in uno stato onirico. Tutto intorno a lei era un po' sfocato, un po' irreale. Oh no, pensò sentendo l'allarme crescere dentro di lei. Sta accadendo di nuovo. Vernestra aveva abbastanza consapevolezza del momento, per capire che stava avendo una delle sue visioni iperspaziali che non aveva avuto da quando era diventata un cavaliere. Ma era completamente incapace di tirarsi fuori dal sogno. Si trovò trasportata, così alla fine si rilassò e lasciò che la visione le mostrasse ciò che doveva. Quindi quella appena letto è una delle esperienze che Vernestra Rho ha dopo essere stata cavaliere. Per l'appunto abbiamo detto che quando era paduan avveniva abbastanza spesso, però ancora non aveva capito se erano sogni, se era un mal di iperspazio o qualcos'altro. Diventata cavaliere per un po', non ha più avuto questo stretto legame con la forza, non sappiamo il motivo per cui si fosse, diciamo, interrotto, in questo momento ha ripreso. Quindi lei è consapevole che qualcosa non va. È consapevole che in questo stato onirico, che la forza vuole mostrarle qualcosa, ma non può esimersi, non può estragnarsi, deve vivere. E per l'appunto, come dice la traduzione di Chiara, ha seguito in qualche modo, segue ciò che la forza vuole mostrarle in questo stato quasi di sogno. È un fattore cruciale delle visioni di Vernestra era l'influenza di Maris Santecca, un'anziana sensibile alla forza che aveva l'abilità di navegare in percorsi iperspaziali unici e segreti. E come comprensibile dal nome, Maris Santecca è legata a Lord Santecca, il personaggio che vediamo all'inizio di Episodio 7, Risveglio della Forza, quando Podemeron va a cercare la mappa di Luke Skywalker. Un personaggio che poteva essere molto più iconico, anche perché era rappresentato da un signor attore immenso, bravissimo, penso a Bergman al settimo sigillo, e invece gli hanno dato quella parte un po' ridotta, poi lo hanno un pochettino esplorato nei fumetti legati a Luke Skywalker, a Ben Solo, eccetera eccetera, quindi nell'altra Repubblica il clan Santecca diventa molto importante, in questo caso per Vernestra Roe, che aveva un legame unico con Mari, perché prima della sua morte cercò infatti di trasmettere, di insegnare a Vernestra un ultimo percorso iperspaziale, non conosciuto, non tracciabile, e Vernestra, come scrive Chiara, ha avuto una visione di lei, ha detto che aveva qualcosa per me, sì, dobbiamo sbrigarci, ho un dono per te, un ultimo varco prima che io passi oltre, è sempre stato destinato a te. Attraverso le sue visioni Vernestra fu guidata verso Mari, che le affidò la conoscenza del varco, un dono prezioso per la sicurezza e per la navigazione nella galassia. E anche qui è bellissimo, perché secondo me questo legame sta morendo per l'appunto Mari Santecca e prima di morire in qualche modo incontra la sua coscienza, incontra quella di Vernestra e le trasmette delle conoscenze, dobbiamo sbrigarci, mi sto spegnendo, ho un ultimo varco prima che io passi oltre, prima che io diventi tutt'uno con la forza, quindi ti do le mie conoscenze riguardo la navigazione iperspaziale. Ricorda Dune, le Bene Gesserit, il trasferimento di coscienza, due donne per l'appunto che si trasmettono un sapere. E la cosa bella, che riguarda sempre Dune, è il fatto che Vernestra ha questo modo unico, grazie a Mari Santecca, di viaggiare nell'iperspazio, esattamente come fanno i navigatori in Dune. Quindi torniamo lì, Dune è la linfa vitale di Star Wars, lo è sempre stato, adesso che c'è questa competizione che sta crescendo cinematografica e presto anche televisiva, i due format giocano un pochettino a citarsi. Lo sta facendo giustamente anche Dune, perché vediamo alcuni elementi ad esempio di design usati da Villeneuve, che strizzano l'occhio per l'appunto a Star Wars. Quindi nella fantascienza c'è sempre stato questo alimentarsi, le cose che funzionavano sono andate avanti, quelle che non funzionavano invece sono morte lì. E vediamo nell'altra Repubblica che sta apprendendo spesso quando riesce cose che funzionano. In questo caso la memoria torna alle Bene Gesserit, torna a Dune. Ma abbiamo, che vi leggo, un'altra traduzione di Chiara, un altro intermezzo dedicato a un altro viaggio di Vernestra Raw nell'iperspazio, quindi a un'altra delle sue visioni. Vernestra chiuse gli occhi. Doveva trovare il suo centro. Aprì gli occhi e si trovò in un posto completamente diverso. «Jedi, ti sto chiamando», disse a una voce sussurrante. Non sembrava né maschile né femminile, e il Basic parlato aveva un accento sconosciuto. «Sei vicina». Vernestra sbatté le palpebre. Come l'ultima volta la visione sembrava incredibilmente reale. Ma era veramente un luogo reale o solo una visione creata dalla forza? «Hai già la risposta», disse la voce. Anche se Vernestra era certa di non aver parlato d'alta voce. «La via è chiara». «Vern, svegliati». Vernestra si riscosse. Il cuore le batteva forte mentre la visione svaniva e si ritrovava di nuovo nel suo corpo. Era stragiata sulla schiena. Imri, che aggiungo io era il suo apprendista, la guardava dall'alto. I suoi occhi erano spalancati e le guance pallide erano arrossate. «Vern, stai bene?». Vernestra si sedette e si guardò attorno. Era di nuovo nel piccolo vano di carico della Resplendent Pearl. Imri la osservava con un'espressione preoccupata, ma fortunatamente era l'unico nella zona di carico con lei. «Sì, sto bene. Siamo ancora nell'iperspazio?». Imri aggrottò le sopracciglia. «Sì, è per questo che eri...». «In realtà dove eri?». Vernestra appoggiò la testa tra le mani. «Penso di aver avuto una visione». Imri scosse la testa. «Vern, non eri qui?». «E se sì, l'Oxilanti avessero trovata, avrebbero potuto pensare che stavi dormendo, ma chiunque altro?». La sua voce si spense e Vernestra non doveva chiedersi cosa intendesse con «chiunque altro». Qualsiasi Jedi ci sarebbe chiesto perché stava meditando così profondamente, più profondamente di quanto la maggior parte dei Jedi faccia regolarmente nella forza. «Imri, devo dirti una cosa. qualcosa che i pochi Jedi sanno di me. Quando ero una Padovan avevo... episodi. Non accadeva sempre, sola volta, quando viaggiavamo lontano ed eravamo nell'iperspazio. Avevo visioni, solo che erano meno come visioni, più come lasciare che il mio corpo andasse a visitare altri luoghi. Non sono ancora del tutto sicura di che cosa siano. Pertanto è così importante farti capire, Imri, che questa cosa che faccio non è volontaria. Non posso controllarla. E pensavo di aver finito con queste cose dopo aver superato le prove. «E allora perché ti sta accadendo ora, Vernestra?». Chiese Imri. «Non è più successo da quando sei mia maestra, vero?». Vernestra scosse la testa. «No. E non so perché ora. Non sono sicura se qualcosa lo abbia scatenato, se sia la mia sensibilità alle emozioni. È un'un'abilità che sta lentamente diventando più forte». Anche questo arriva sempre da Out of the Shadow di Justine Island e vediamo per l'appunto lo sconvolgimento, questa meditazione che è sempre più forte e sta crescendo, di cui Vernestra in qualche modo è leggermente preoccupata. Infatti, come dicevo all'inizio, abbiamo visto un sonto, abbiamo visto alcune immagini di situazioni accadute. Questo legame con la forza che ha Vernestra è unico, è profondo. Molti Jedi non lo capirebbero e perfino Imri rimane veramente spaventato, deve chiedere rassicurazioni alla sua maestra. E quindi è proprio una percezione, un modo di reagire alle minacce che l'attendono, grazie a una sorta di avvertimento della forza. Ancora, rimane uno dei misteri dell'altra Repubblica, rimane uno dei misteri della maestra Vernestra Rho. Io speravo, lo ammetto, ti vedrei in The Aco Light, una di queste visioni, ma abbiamo visto quando lei arriva sul pianeta e sta indagando perché necca, sente gli ecchi della forza. Un po' come Cal Kestis nel videogame, Jedi Survivor, Jedi Fallen Order o il più famoso Quillavos. Quindi ha la psicometria. Questo potere in grado, in qualche modo, attraverso un oggetto, attraverso una scena, attraverso il luogo, di riesumare della forza dei ricordi. Questo è un altro collegamento con la forza molto particolare che hanno pochi Jedi. Ce l'ha anche Rey, lo vediamo quando tocca la spada laser di Luke Skywalker in episodio 7, lo vediamo poi anche in altri casi in episodio 8. È abbastanza raro, ma non così raro quanto le visioni nel prespazio che Vernestra Rho sembra mostrare. Ma io ringrazio ancora Chiara per averci aiutato anche oggi dandoci una lettura bellissima traducendo dall'inglese questi spezzoni. Io era la prima volta che li leggevo, quindi spero di essere riuscito comunque a trasmettere al meglio quello che mi son trovato davanti a prima vista, a prima lettura. Ho fatto il mio meglio in caso la colva è mia. Sicuramente non dichiara che è stata eccezionale. Quindi aspettiamo, speriamo che nell'episodio 7 e 8 Vernestra compia un viaggio e abbia una di queste visioni, perché sarebbe bello vederlo in live action, sarebbe bello vederlo spiegato lì. Ma come sempre io sono Emilio Valotti e vi ringrazio tantissimo. Lascia un mi piace qui sotto e come sempre commenta. Ma soprattutto, prima di chiudere, rispondiamo quindi brevemente alla domanda del titolo. Perché Vernestra non ama viaggiare nell'iperspazio? Per questo motivo, perché le visioni che ha non le capisce, la preoccupano, la spaventano e ha sempre cercato un po' di tenerle nascoste. Come sempre, che la forza sia con te! Grazie a tutti!